Per quanto riguarda la vicenda politica è molto semplice. Noi siamo per non compromettere gli sforzi che in questi anni hanno fatto gli italiani, i grandi sacrifici e per continuare sulla strada della salvezza nazionale che questo governo ha intrapreso. Monti farà le sue scelte, naturalmente è inutile tirarlo per la giacca, ma noi comunque saremo in campo per garantire che la politica e la società civile diano un senso e un seguito allo sforzo di risanamento che questo governo ha fatto.